fratelli bianconeri e non buonasera o buonanotte a tutti voi eccomi qua per le pagellasse di rito pagellasse di rito che diciamo stasera non sono proprio orrende 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 non come altre volte che necessitano di il zatterone il catapulta o qualche altro aggeggio come vanghe forche zappe o cose del genere stasera è una serata relativamente tranquilla poi tutte queste cose messe insieme io le darei solo a uno voi sapete chi è non serve fare il nome dunque la partita è stata una partita un tantino meglio di quelle che solitamente siamo abituati da vedere a vedere da tre anni a questa parte per merito di chi io forse andrò un pochino controcorrente però io mi sento di dire stasera un pochino più per demerito della roma la juventus ha giocato un tantino meglio nel senso che nel primo tempo la roma va in vantaggio la juventus la recupera poi la roma prende fiato per una ventina di minuti e la juventus si propone ma negli ultimi 20 minuti la squadra ha un rilassamento completo e abbiamo rischiato di perderla la partita perché la juventus nel finale ha rischiato di perderla ora è difficile arrivati a fine stagione fare un riassunto è difficile e non lo voglio neanche fare perché dovrei impegnarmi troppo e dopo i vomiti le le crisi di bile che ho avuto quest'anno non ho sinceramente neanche voglia di andare a ripercorrere questa stagione definir che definirla disastrosa e dire poco ora mancano tre partite e alla juventus mancano tre punti per la certezza matematica della champions ora io credo credo almeno credo io è che dopo la partita di domenica prossimo sabato quando giocheremo non lo so contro la salernitana una volta perché io ovviamente contro la salernitana metto già in preventivo la vittoria perché se non vinciamo neanche con la salernitana sì che domenica tiro fuori i fuochi d'artificio dopo perché dopo sì quindi metto in preventivo che domenica la salernitana ci si sposti come ha fatto l'inter ieri sera col sassuolo si scansi e ci faccia andare a prendere questa champions perché abbiamo sempre bisogno di un aiutino non si sa mai detto questo che cosa dire della partita di stasera è stata comunque una discreta partita nel secondo tempo le squadre si sono abbastanza affrontate a chi va bene questo risultato secondo me a nessuna delle due però ce lo dobbiamo far andare bene sia noi che la roma è chiaro che se viene a meno qualcosa di più questo qualcosa viene meno alla roma quindi alla roma meno contenta infatti negli ultimi 10-15 minuti la squadra di De Rossi ha provato ad arrivare al gol della vittoria giustamente non c'è molto di cui parlare nel senso che il risultato a mio parere è giustissimo niente di più non ci sono state cose eclatanti l'unica cosa che non ho capito ve la dico poi adesso quando facciamo quando vi leggo le mie pagelle e c'è una cosa che non ho capito adesso ve la spiegherò fra poco per il resto ragazzi poco altro da aggiungere se non vinciamo domenica con la salernitana e poi grazie a dio possiamo cominciare a dire le preghiere perché questo allenatore finalmente se ne vada e non metta mai più nella sua vita piede in quel di torino ma non torino ci venga a fare il villeggiante se vuole il turista ma che non lo veda mai più sulla nostra panchina perché un allenatore più scarso di questo io ne ho visti veramente pochi e guardate che io di allenatori scarsi ne ho visti non solo nella juventus in generale parlo ma ne ho visti questo sicuramente è uno tra i più scarsi perché quando il povero berlusca povero tra virgolette disse una volta a milano questo è uno che non capisce un caso aveva una gran ragione perché di berlusconi puoi parlare come vuoi e gli puoi dire quello che vuoi ma di calcio era competente e se uno come berlusconi era arrivato a dire ad allegri questo non capisce in caso vuol dire che non aveva tutti i torti e l'abbiamo palesemente appurato detto ciò per non infierire ulteriormente perché tanto è come sparare sulla croce rossa veniamo alle pagellazze secondo demon scesni io gli ho dato sei e mezzo ha fatto due buone parate due ottimi interventi e due volte è stato salvato una volta da bremer mi pare una volta da gatti in calcio d'angolo perché sennò sarebbero stati guai ma per il resto direi una partita in cui lui se l'è cavata io personalmente sono uno che di scesni però me ne libererei già da quest'anno scesni se non mi ricordo male a un altro anno di contratto io non glielo farei nemmeno fare io troverei una strada per dirgli guarda abbiamo già trovato un portiere nuovo non mi interessa tanto non è con scesni che la juventus può fare mercato per cui o lo cedi quest'anno dicendogli guarda vattene via questo è il tuo cartellino vattene via in senso buono ovviamente questo è il cartellino fai quello che vuoi e ci si mette d'accordo sulla cifra ossino attenti una vendita dell'ultimo momento ma credo che sia difficile è un portiere che io del quale io personalmente vista la situazione me ne priverei già da quest'anno e come ho detto sei e mezzo gatti gatti non mi è piaciuto moltissimo devo dire non so quale sia il futuro di gatti alla juventus io personalmente se dovesse arrivare motta o comunque un allenatore in stile mottiano diciamo così credo che non so se avrebbe il posto da titolare fisso onestamente come panchinaro ovviamente io me lo terrei sicuramente sicuramente me lo terrei come titolare o gli metti vicino buffon barzagli e chiellini o altrimenti la vedo abbastanza difficile non è certo il difensore al quale puoi dare la difesa in mano per capirci sulla partita sei stiracchiato bremer io gli ho dato sette e mezzo sette e mezzo perché stasera per me è stato insieme a chiese il migliore in campo giocato benissimo marcato benissimo anticipati giallorossi dove ha potuto ha portato via palloni e ha fatto tra l'altro anche un bel gol di testa allora mercato bremer è mercato bremer lo vede un po sulla lista dei partenti nel senso che se arrivasse un offertona e quando parlo di un offertona sui 70 60 70 milioni io credo non io io me lo terrei ve lo dico perché difensori come bremer non è che ce ne siano tantissimi non è un giocatore per il quale io stravedo però è un giocatore che se vuoi fare una buona difesa diciamo che uno come bremer ti serve per la partita di stasera come ho detto sette e mezzo e vedremo che succederà al mercato Danilo una partita come sempre di ordinaria amministrazione non eccelle particolarmente non fa nulla di particolare anzi secondo me nell'occasione del gol della Roma forse avrebbe potuto un po' chiudere un po' meglio a mio parere ciò non toglie che è il capitano della nostra squadra ma ciò non toglie che è un altro di quei giocatori del quale io assolutamente mi libererei è palesemente un giocatore bravo sì ma è un giocatore medio non aggiunge nulla ad una squadra per cui credo che tenerlo forse potrebbe diciamo fare la panchina però noi abbiamo bisogno di altro se vogliamo costruire una grande squadra e credo che Giuntoli lo sappia bene per la partita di stasera sei allora UEA UEA è come dico sempre è l'eterno mistero di questo di questo campionato però come ho già detto in altre occasioni io a questo ragazzo voglio dare la seconda chance nel senso io non lo cederei me lo terrei ben vicino ben stretto perché secondo me è un ragazzo che i numeri li ha deve essere messo nelle condizioni però di saper fare quello cioè di fare quello che sa fare senza andargli a chiedere Arzigogoli vari perché non mi sembra il tipo di giocatore al quale tu puoi chiedere la luna è un buon elemento potrebbe tornare utile anche a livello panchina io gli darei un'altra chance per la partita di stasera mi limito al 5 e mezzo anche se dovrebbe essere 5 perché comunque ha rimediato un'ammunizione tra l'altro una seconda munizione che gli poteva costare il cartellino giallo e quindi l'espulsione diciamo che anche a livello di intelligenza tattica dovrebbe migliorare un po' come vi ho detto 5 e mezzo McKennie 5 e mezzo di voto mi è piaciuto molto poco stasera mi è sembrato un po' confuso sinceramente è andato un po' troppo dietro rincorrendo a destra a sinistra i giocatori della Roma ma non facendo quello che solitamente invece lui sa fare cioè prendere la palla spostarsi verso l'attacco e creare anche superiorità numerica quando serve ecco a mio parere questo qui stasera è venuto a meno quindi a McKennie do 5 e mezzo in versione di mercato tutti lo sanno che se arriva un'offerta sui 35 e 40 McKennie potrebbe partire Locatelli io a Locatelli do 5 mi dispiace ma è un giocatore che continua a non piacermi è un giocatore lento è un giocatore che non ha mai il guizzo decisivo ma non tanto per far gol ma per saper mettere anche i compagni davanti al portiere sono tutte cose che non sono nelle sue corde e non capisco quale potrebbe essere l'utilità nel caso dell'arrivo di un nuovo allenatore non lo so io come playmaker mi dispiace ma lo vedo molto poco e come regista di centrocampo lo vedo ancora meno io sono dell'idea che sia una mezzala per cui o lo sfrutti lì o altrimenti è meglio che lo tieni in panchina altro giocatore che per 25-30 milioni io lo cederei perché tutti sappiamo che la Juventus lo ha pagato una follia questo giocatore e che non li vale assolutamente il suo reale valore sui 20-25 milioni non di più quindi si vedrà Rabiot giocatore da cedere a mio parere io stasera gli do un 6 stiracchiato stiracchiato perché da quando poi tra l'altro non porta più il ferma cappelli ma va avanti con i cappelli al vento che mi sembra toro seduto quando andava a cavallo però ripeto continua a non piacermi continua a fare partite molto 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 mediocre quando invece non va dimenticato che questo giocatore è il titolare uno dei titolari inamovibili della nazionale francese io che cosa ci veda Deschamps in questo giocatore non lo so io personalmente allegri o non allegri lo manderei su Marte domani mattina io personalmente sei stiracchiato cambiaso un passo indietro a mio parere questo giocatore secondo il nostro fantasmagorico allenatore è un giocatore diventato imprescindibile secondo lui io mi dispiace ma vedo ancora un cambiaso poco maturo tatticamente ancora tecnicamente non è il giocatore che io vorrei vedere ma soprattutto lo ripeto ancora una volta è un giocatore che parla troppo si lamenta troppo in campo a me questo tipo di giocatori piacciono fino a un certo punto tante volte sapete che io ho criticato anche Pjanic proprio per questo motivo per cui non lo so c'andrei cauto per quello che riguarda il mercato ovviamente non è mercato perché cambiaso viene ritenuto incedibile dalla società Chiesa 8 8 perché per tante cose stasera 8 perché ha giocato benissimo perché è stato il migliore insieme a Bremer 8 perché avrebbe meritato il gol su quella fucilata visto che è l'unico che tira da fuori 8 perché aveva messo in condizioni Vlauvis di fare un gol non dico semplice ma stiamo là e soprattutto 8 per la sopportazione che ha nei confronti del nostro allenatore con il quale sapete benissimo che non corre buon sangue Chiesa non vede l'ora che vada via Allegri e lo posso ampiamente capire Ennesima sostituzione anche stasera nonostante questa era la cosa che vi dicevo prima che non capivo del fatto che sia stato sostituito lui che era il migliore in campo insieme a Bremer ma questi sono i misteri che forse un giorno il nostro stratega panchinaro quando magari non sarà più sulla nostra panchina avrà il coraggio e la decenza di spiegarci Vlauvis Chiesa credo che non ci siano problemi per il rinnovo a meno che abbia la non certezza che ci sia Allegri se c'è Allegri io penso che Chiesa andrà via Vlauvis 5 anche stasera secondo me ha sbagliato questo giocatore si deve ritrovare si deve riprendere ma soprattutto ha bisogno di iniezioni di fiducia che con Allegri non ha più gli manca molto gli manca la capacità di fare quello che solitamente fa per quello che riguarda il mercato premetto 5 di voto per quello che riguarda il mercato io ripeto se deve stare in una società dove viene criticato da tutta la tifoseria per i gol che sbaglia signori troviamo una squadra che ci dia 60-70 milioni e cediamolo per il resto Kostic 5 Kostic è già sul mercato stessa cosa per Milink non giudicato stessa cosa per Ken che ha il quale stasera 2-6 perché ha impegnato con un colpo di testa Svilar e Alcaraz non lo so Alcaraz non lo giudico però riguardo al mercato non ho la più pallida idea di che cosa succederà io un altro anno con un altro allenatore glielo darei come glielo darei a OEA come ho detto Ken Kostic 10 mili come sapete bene sono tutte e tre sul mercato detto ciò queste sono le pagellazze di stasera l'unica cosa ripeto ve l'ho detta prima che non capivo è stata la sostituzione di Chiesa anche stasera per forza questo ragazzo deve uscire il perché non si sa io spero di riuscire a riarrivare domenica alla Champions della Coppa Italia francamente me ne frega meno di zero che la vinciamo meno anche perché credo che la Juventus la Coppa Italia la vincerà all'Atalanta mancano Scamacca sicuro probabilmente mancherà anche l'altro ragazzo quello di colore che non mi ricordo mai come si chiama Lukman è come è venuto il nome mancherà probabilmente anche Lukman quindi io non so come l'Atalanta farà vincere la partita però nel caso dovesse vincere l'Atalanta io i capelli non me li strappo sicuro io sto aspettando di poter riaprire nel mio tendone alle spalle sperando che questo possa succedere prima possibile arrivederci a tutti